Bene, oggi il dibattito è proceduto ancora più velocemente a dimostrazione del fatto che i punti critici sono facilmente eludibili se c'è una presidenza che cangura e che fa votare senza far ragionare. Troppe volte si è cercato di aver spazio per presentare argomentazioni e tutte queste volte si è stati immediatamente confutati, bloccati, osteggiati. Comunque domani si arriverà alla fine di questa pantomima e francamente sono molto avvilito di come si sia sviluppato il dibattito ma d'altronde le avvisaglie che si erano avute in Commissione erano state uguali perché in Commissione noi abbiamo sempre girato intorno ai problemi e mai affrontato gli stessi.